Russia e Iran chiedono un'indagine approfondita sull'attacco chimico avvenuto la scorsa settimana nella provincia siriana di Dlib, una decisione presa dal ministro degli esteri russo Lavrov e dal suo omologo iraniano Zarif. Secondo Mosca, l'attacco missilistico da parte degli Stati Uniti aveva come obiettivo quello di minare il processo di pace, approvato all'unanimità dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite cambiare il regime, ma il tentativo è fallito, ha sottolineato lo stesso Lavrov, aggiungendo che azioni così aggressive sono da condannare. Solo il popolo siriano può determinare il futuro del paese. Mentre l'amministrazione americana insiste di avere però le prove che l'attacco chimico sia stato condotto dalle truppe regolari, il ministro degli esteri siriano Moukhaled si chiede perché Washington temi allora una commissione d'inchiesta, inchiesta che secondo il presidente siriano Assad deve essere imparziale condotta da paesi che abbiano un giudizio obiettivo sulle cose e non la utilizzino per motivi politici. Intanto la settimana scorsa gli Stati Uniti da due navi di stanza nel Mediterraneo hanno lanciato circa 60 missili cruise verso una base aerea siriana dopo l'attacco nella provincia di Idlib, il primo attacco diretto statunitense al regime di Assad dall'insediamento del presidente Donald Trump.